Nell'ambito del capillare controllo del territorio disposto dal questore della provincia di Ragusa, gli agenti del commissariato di Vittoria hanno arrestato per furto aggravato un trentenne che aveva appena messo a segno un colpo all'interno dell'abitazione di un appartenente alle forze dell'ordine. Nello specifico, i poliziotti della squadra volanti e della sezione investigativa sono intervenuti presso un edificio ubicato in una zona centrale di Vittoria, a seguito della segnalazione poco prima pervenuta presso la locale sala operativa relativa a un furto in atto. Raggiunto prontamente il luogo, gli agenti hanno notato un uomo che repentinamente dal balcone dell'abitazione in questione saliva all'ultimo piano provando a fuggire saltando fra i tetti delle case attigue. Nonostante la rocambolesca fuga, gli agenti sono riusciti a circondare l'intera zona interessata e a bloccare il fuggitivo mentre tentava di scendere in strada attraverso una canaletta di scolo delle acque piovane. L'autore del reato, un noto pregiudicato locale con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, perquisito è stato trovato in possesso della refurtiva occultata all'interno di un marsupio e consistente in diversi monili in oro. La perquisizione è stata estesa anche all'abitazione del malvivente con esito positivo, in quanto sono stati rinvenuti altri monili e oggetti verosibilmente sottratti in altri furti commessi in precedenza. Il trentenne è stato pertanto arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato e dopo le formalità di rito è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.